buona giornata amici di fano tv ben trovati alla rassegna stampa oggi è venerdì 27 gennaio 2023 siamo pronti con la lettura dei giornali resto il carlino corriere adriatico sono qui pronti per essere visti e anche relazionati per quanto riguarda le notizie del giorno cominciamo subito con l'almanacco e vediamo chi è il santo del giorno è una santa una santa particolare si tratta di sant'angela merici una santa italiana era nata a desenzano sul garda nel 1474 ha fondato la congregazione delle orsoline una congregazione che si era diffusa prima in italia poi in tutta europa e anche oltre oceano il suo scopo era quello dell'educazione delle giovani angela condusse una vita semplice tra mortificazioni e preghiere e già in vita era in odore di santità sant'angela merici le previsioni del tempo le previsioni del tempo vediamo che il tempo ancora rimane nuvoloso su tutta la regione ecco la grafica giornata con cielo nuvoloso o molto nuvoloso ovunque piogge rovesci sparsi tra l'anconetano e il fermano e c'è un deciso calo termico le temperature le minime saranno di 5 gradi le massime di 7 brevissima l'escursione termica per quanto riguarda i venti invece sulle coste espireranno da una direzione di nord e nord est all'interno invece con una tensione debole da nord ovest e le temperature sono ancora in calo ormai siamo nel pieno dell'inverno ebbene con queste piccole anticipazioni passiamo alla lettura dei giornali questa mattina a partire dal corriere adriatico ecco la pagina di fano ed è un nuovo capitolo di una telenovela che si prolunga ormai da tanto tanto tempo nuova occupazione del vittorio colonna ora hanno messo le tende alle finestre si hanno messo le tende alle finestre sono tornati gli abusivi all'ex convitto i residenti della zona chiedono interventi risolutivi ora hanno messo anche le tendine per evitare sguardi indiscreti e intendono così tutelare anche loro gli abusivi la loro privacy lo hanno notato un po tra il divertiti e un po tra il preoccupati i residenti del confinante centro residenziale santa teresa che abitano nello storico convento delle teresiane delle carmelitane scalze che poi si sono trasferite a sant'andrea in villis che è stato ristrutturato e quindi adivito ad appartamenti non sono passati che pochi giorni dal blitz sei giorni sei sette giorni dal blitz è compiuto dalle forze dell'ordine in cui sono state individuate dieci persone abusive all'interno appunto del vittorio colonna che questi poi sono state denunciate alcune sono state sottoposte anche a fogli di via insomma cose del genere ma insomma l'occupazione è tornata qual è la soluzione del problema la soluzione radicale è quella di attribuire al vittorio colonna una nuova funzione perché altrimenti si rimane disabitata e il complesso è così grande che se chiudi da una parte trovi un buco da un'altra e quindi sarà sempre oggetto di coloro che non hanno un tetto su cui ripararsi i residenti invitano l'amministrazione comunale a rafforzare centri di accoglienza non so il dormitorio di san paterniano che ovviamente è gestito dai frati ma abbiamo anche altre case che devono essere adibite a ricovero a chi non ha un tetto appunto sulla testa vediamo le altre notizie una notizia importante la maratona si farà accettiamo la sfida il direttivo accoglie le rassicurazioni di comune e regione un passo indietro un bel passo indietro che dà la soddisfazione non solo degli sportivi ma di fanno tutta anche degli albergatori ovviamente che da questa manifestazione trovano un aumento del numero di presenze la colle marathon 2023 si farà scongiurato il rischio di annullamento la corsa prenderà dunque il via il dal alle nove del 7 maggio prossimo da portanova di barchi per concludersi questa volta davanti all'arco di augusto di fanno l'anno scorso si era conclusa nei pressi della rocca malatestiana quest'anno invece una cornice ancora più bella più suggestiva direi quella dell'arco d'augusto il monumento più rappresentativo della città di fanno la buona notizia è stata data nel tardo pomeriggio di ieri dunque una fumata bianca che ha fatto seguito a un proficuo confronto che c'è stato con la regione e con i comuni attraversati dalla manifestazione il consiglio direttivo della colle marathon ha quindi deciso di riconsiderare la revoca dell'edizione di quest'anno annunciata pochi giorni fa e quindi questa bella corsa si farà una notizia di cronaca che il Corriere Adriatico pone a fondo pagina della prima pagina è quella di un fatto ne troviamo piuttosto spesso sui giornali di un fatto squallido palpeggia la figlia minorenne condannato a due anni e sei mesi si tratta di un fanese di 46 anni che dovrà inoltre risarcire la ragazzina e la moglie e ieri il pubblico ministero aveva chiesto due anni e due mesi di reclusione mentre il collegio ha alzato di quattro mesi la pena condannando l'imputato a due anni e sei mesi di reclusione il collegio ha inoltre stabilito che il 46enne deve corrispondere un risarcimento di 5.000 euro per la figlia e di 2.000 euro per la madre ubriaco aveva tentato di palpeggiare la figlia compresa anche una sua amica durante un incontro nella propria abitazione vi risparmio i particolari se volete leggeteli sul giornale contributi per l'affitto il 31 l'ultima scadenza è un avviso che l'assessore al welfare di comunità dimitri tinti da a coloro che devono percepire i contributi l'assessore al welfare ricorda appunto a queste persone che entro il 31 10 e 2022 hanno presentato la domanda per richiedere il contributo che devono presentare tutti i documenti che sono ritenuti necessari entro la fine di questo mese altrimenti perderanno insomma il sussidio vediamo alle altre notizie con il portale la città felice il turismo riparte dal web a fossombrone anche fossombrone promuove le sue bellezze sui siti internet e sono bellezze veramente molto molto interessanti molto molto accattivanti sono bellezze naturalistiche bellezze gastronomiche e sono bellezze che vengono evidenziate tramite colori ebbene vediamo il giallo è simbolo del gusto per una cucina di qualità incentrata su materie prime offerte dal territorio in ogni stagione il viola invece rappresenta la curiosità a fossombrone vivono e si alimentano tantissime storie passate presenti e future tra i diversi personaggi troviamo il pittore anselmo bucci giuseppe cesarini con la sua casa museo e il poeta luigi mercantini poi abbiamo il verde il verde che non può non riferirsi alla natura al paesaggio e a fossombrone bellissime scene vengono date dalle marmitte dei giganti dalle cesane dal colle dei capuccini ma anche dal mare che ha solo i 20 minuti e quindi chi soggiorna a fossombrone può certamente fare anche delle scappate diciamo così al mare lungo la flaminia un bellissimo territorio pieno tra l'altro di reperti archeologici street food camminate bici anche il nino diventa salutista ebbene dopo il rinvio della scorsa settimana per il maltempo il borgo di sant'andrea di suasa dove si svolge questa bella manifestazione dedicata al maiale il maiale è tipico alimento di questa stagione siamo in inverno abbiamo bisogno di calorie ma è anche carnevale e quindi anche qualche trasgressione può essere consentita ebbene domenica prossima torna a sant'andrea ad ospitare la festa del nino una nuova veste per l'evento che ogni anno attira tantissimi i promotori meno pranzi e cene questo è un po l'input di questa manifestazione e più sperimentazione e cibo di strada e qualche passeggiata in ghi in bicicletta in più quindi si può mangiare ma bisogna anche smaltire poi le calorie e quindi si fanno anche delle passeggiate delle sbiciclettate salutistiche bella questa iniziativa del nino vediamo la pagina di senigallia il senigallia a senigallia il comune cede sei aree sul lungomare vende gioielli con un colpo di mano dicono le opposizioni minoranza contro l'alienazione di superfici con imprese commerciali bizzarri repica hanno il diritto di prelazione questa è una polemica nata a senigallia sulla vendita di sei aree che sono vicino al lungomare dove si trovano altrettanti attività soprattutto ristoranti ebbene la decisione è stata assunta dal comune dopo che queste aree che una volta appartenevano al demanio sono entrate in possesso del comune che ora intende disfarsene sono state inserite nel piano delle alineazioni del bilancio di previsione del 2023 e hanno subito così sollevato l'opposizione delle minoranze di quest'ultima dicono che il comune vuole vendere i gioielli di famiglia in vendita aree dove insistono diverse attività che potrebbero magari avere un danno da questo passaggio di proprietà e quindi ci sono queste polemiche ed ora vediamo un'occhiata anche alle notizie di carattere regionale ma che ci interessano da vicino perché vediamo che sul fronte della sanità la regione ha assunto una decisione che riguarda maria capalbo che la direttrice dell'azienda ospedaliera marche nord che ha cessato di esistere il 31 dicembre scorso ma che ora viene ancora gestita in maniera temporanea fin quanto non sarà nominato il successore dalla stessa maria capalbo ebbene quest'ultima è stata nominata direttrice del l'irca l'irca è la spuntata nei confronti di gilberto gentili che sembrava fosse il favorito a questa nomina capalbo scavalca gentili sarà lei a guidare l'irca braccio di ferro sulla azienda sanitaria territoriale uno di cui ancora non si sa chi sarà il direttore e intanto acquaroli vediamo qui un articolo di politica acquaroli non falisce un colpo la lega è all'angolo piovono sconfitte che succede succede che acquaroli magari non perfetta sintonia con la lega riesce però a mettere a sicuro tutti i suoi progetti riesce a far approvare tutti i suoi progetti e la lega deve mandar giù perché non ha alternative una capacità del governatore che riesce a tenere con le redini la giunta in maniera insomma a suo vantaggio 10 milioni a carima dalla società di revisione per il via libera ai bilanci si parla ancora del crack di banca marche sui giornali questa mattina la transazione sigla tra tra p wc e la fondazione maceratese ingannati dei conti certificati senza rilievi che dipingevano una realtà solida 18 milioni di euro versati appunto dalla società di revisione dei conti per transare con le fondazioni che sono detentrici del pacco azionario dell'ex banca delle marche anche qui un accordo dunque per riuscire a risolvere la situazione e qua in questa pagina la prima pagina che riguarda pesaro sul corriere adriatico strettamente pesaro riguarda invece i danni che hanno subito le concessioni balneari in seguito all'ultima mareggiata i giornali e gli stessi operatori dicono che si tratta di una delle mareggiate più forti di questi ultimi anni e occorrono veramente sussidi contributi per riuscire a risollevare la situazione subito soldi e interventi troppi i danni qui rischiamo di non avere più la spiaggia dicono gli operatori e c'è una dichiarazione di Andrea Giuliani responsabile provinciale di Confartigianato per quanto riguarda le imprese demaniali e nei confronti urgenti per programmare interventi di ripristino e di carattere strutturale e occorrono veramente molte molte risorse per riparare i danni e per cercare di ripristinare tutto quello che il mare ha mangiato proprio in questi ultimi giorni dopo che si è abbattuto un importante fortunale appunto su tutto il litorale e qui non abbiamo buone notizie per quanto riguarda il ROF in quanto a causa delle scosse di terremoto i lavori di cui è oggetto il teatro Rossini verranno prolungati e quindi il teatro non sarà disponibile per le prossime manifestazioni del ROF le quali dovranno tenersi alla Vitifrigo Arena. Il Rossini si piega al sisma, sarà chiuso anche per il ROF, dice il titolo. Vimini e Pozzi, due assessori, sono necessari nuovi interventi rispetto a quelli previsti. Lo sportello è utile a tutti e il centro è più di decoroso. È una dichiarazione dell'assessore Franco Ellucci per quanto riguarda le critiche che l'opposizione ha sollevato in merito ai rapporti che l'assessore sta avendo con la città, aprendo un sportello in cui ci sono incontri, colloqui diretti per così ricevere segnalazioni, ascoltare anche delle proteste, avere degli input. Si dice che questo non va bene da parte delle opposizioni, invece oggi abbiamo la risposta dell'assessore che dice che questo sportello appunto è utile per quanto riguarda la concertazione. Ed è morto invece un grande artista, un artista che noi rimpiangeremo, si tratta di Oscar Piattella. Inseguiva un sogno, dice il Corriere Adriatico, la collettiva per Pesaro 2024, ma non è riuscito a farla. L'artista novantenne è scomparso ieri, stava collaborando con il Comune, la sua perdita ha commosso anche Giuliano Vangi, un altro dei grandi artista che esprime il nostro territorio. Una perdita enorme per tutto il nostro territorio, ma non solo. E' scomparso ieri mattina all'età di 90 anni, Oscar Piattella, il grande artista pesarese che aveva ottenuto numerosi riconoscimenti internazionali per la sua immensa sensibilità artistica. Vedete come gli aggettivi si portano veramente ai massimi termini. Una perdita enorme e vediamo un'immensa sensibilità. Veramente abbiamo perso un grande valore, un grande punto di riferimento nell'arte della cultura del nostro territorio. Giriamo ancora la pagina e siamo ad una notizia di cronaca. Il gestore di un negozio, Money Transfer, prestava denaro a tassi fino al 105%. E' stato individuato e arrestato dalla Guardia di Finanza, che stima un giro di affari di 800.000 euro. Denunciato anche il cognato, che era colui che andava a riscuotere le rate del debito. Un negozio di Money Transfer in centro a Pesaro, quanto basta per manovrare abbastanza contante e prestarlo a chi è in difficoltà. Solo che questa attività, che avrebbe dovuto essere di solidarietà, con un tasso di interesse accettabile, era invece un tasso di usura. Veniva praticato un tasso di usura 105%, quindi oltre il doppio della somma che veniva prestata a chi ne aveva bisogno. Ebbene è stato denunciato. Vediamo anche la pagina di Urbino, dove si parla di restauro di opere d'arte. Il valore dell'artigianato artistico ha restaurato quattro preziose tele ed è la Confartigianato che ha presentato il suo progetto di promozione alla città. All'interno di questo progetto abbiamo il restauro di ben quattro opere d'arte, due dipinti della Chiesa del nome di Dio di Pesaro, del pittore pesarese Gian Giacomo Pandolfi e due tele di Palazzo Ducale, raffiguranti un angelo annunciante ed una madonna annunciata attribuita a Sebastiano Conca. Ebbene, questi dipinti sono stati presentati a Palazzo Ducale, di cui ha fatto gli onori di casa il direttore Luigi Gallo. Vogliamo raccontare la storia dell'arte, ha detto il direttore, e lo facciamo con un lavoro attento. Siamo sempre ben lieti di riportare alla luce opere del nostro deposito. E quindi anche queste opere, che prima non potevano vedersi perché non erano esposte, ora potranno essere ammirate nelle mostre di Palazzo Ducale. Apriamo ora il resto del Carlino, dove l'apertura sulla pagina di Fano è dedicata al canile di Tre Ponti. Fido parcheggiato al canile, i casi sono veramente troppi. L'allarme viene lanciato dalla Melampo, che è l'associazione che gestisce il canile di Tre Ponti. Solo l'anno scorso sono entrati in 25 ed erano di proprietà. Sono 25 cani che sono stati lasciati al canile. Tantissimi soccorsi prestati. È un po' un consuntivo quello che la Melampo fa per quanto riguarda l'attività compiuta nel 2022. Ed è quasi triplicato negli ultimi anni il lavoro delle volontarie di questa associazione. Sono infatti 91 i cani ospiti della struttura comunale. Tra loro tanti super vecchietti, ovvero over 14 anni. Ebbene, già quando un cane ha compiuto 14 anni comincia a essere piuttosto vecchio. Alcuni dei quali poi di questi cani sono anche problematici. Cioè ci sono cani morsicatori, cani che reagiscono in maniera aggressiva. Ebbene, ce n'è anche uno, un pastore tedesco, che il 18 maggio scorso è diventato tristemente noto come il cane che ha quasi ammazzato il suo padrone nella pineta di Ponte Metauro. Si è rivoltato proprio contro. Vive ancora gestito a ghigliottina. Ci spiega Cecilia Tornimbeni, che è presidente dell'associazione, il che significa che con lui non c'è approccio diretto. In tutti questi mesi è stato costantemente seguito dall'educatore e qualche miglioramento si è avuto per quanto riguarda il suo carattere. Comunque il 2022 è stato un anno di buoni risultati ottenuti dall'associazione. Soprattutto in termini di adozione. 39 sono le adozioni totali, di cui 22 per piccoli cani, cuccioli, cuccioli, che sono quelli che si danno via più facilmente. Anche se di pari passo sono stati tantissimi nuovi ingressi in struttura, ben 60, di cui solo 9 cosiddetti cani randagi. Ebbene il randagismo è molto diminuito nel nostro territorio e questo grazie anche alla diffusa sensibilità che si è propagata tra coloro che amano i cani. Molti, quasi tutti ormai i cani hanno il microchips e quindi i cani randagi sono veramente diminuiti. E vediamo anche la soluzione di un problema che evidenzia il resto del Carlino. I protagonisti di H risponde rimarranno nella sede di Via Froncini. Si tratta di una struttura che viene gestita dalla AGFI, che sono i genitori con bambini problematici, che dovevano emigrare, dovevano essere spostati. In realtà questa sede, secondo loro, era molto importante averla nel centro storico e alla fine, dopo polemica e qualche problema, finalmente resteranno, lo ha dichiarato il sindaco, resteranno appunto nel punto in cui si trovano. E poi vediamo un caso giudiziario intentato nei confronti di un papà che aveva accompagnato all'asilo senza vaccino, pur essendo obbligatorio allora, all'epoca, quando la pandemia infuriava un po' in tutto il territorio, appunto la vaccinazione, e il papà è stato condannato. Portavano il figlio all'asilo, nonostante la preside lo avesse sospeso perché non vaccinato, è stato condannato a un mese di arresto il padre del bimbo, un 43enne di origini inglesi, per aver inosservato un provvedimento dell'autorità. Il reato contestato risale appunto a circa quattro anni ed è successo in una scuola materna di Pergola, Pergolese. Fano Urbino è un rebus sullo studio di fattibilità. E ieri si è svolta una seduta del Consiglio regionale dove questo problema è stato ancora una volta controbattuto. Abbiamo Andrea Biancani che evidenzia che dopo quattro anni non è ancora pronto lo studio di fattibilità e la replica di Luca Serfilippi della Lega che dice che il progetto sarà pubblicato a breve. Comunque esplode la polemica in Consiglio. Ebbene, una polemica che esplode ogni tanto, ma ancora i tempi sono lunghi e la situazione non cambia e non si trova un accordo perché la regione insiste in un modo mentre l'opposizione la vede in un altro. C'è chi la vuole lungo i binari della ferrovia e c'è invece chi la vuole in maniera tortuosa che si discosta appunto dal camminamento ferroviario. Sappiamo benissimo com'è la questione. Al Salone Nautico di Dusseldorf sta spopolando il Made in Fano e si parla di cantieristica. Qui abbiamo due articoli a fondopagina dell'Arresto del Calino che parlano di cantieristica. Questo per quanto riguarda il successo ottenuto dai nostri cantieri nella mostra di Dusseldorf e qua invece un premio per il miglior catering che è stato vinto dal fanese Andrea Urbani premiato per il suo catering matrimoniale. Qui non si parla di cantieristica, si parla invece di pasticceria, di catering insomma di forniture di cibi all'esterno appunto dei locali. Ebbene ecco qui l'articolo che riguarda la Colle Marathon. La Colle Marathon è salva arrivo all'arco di Augusto. Gli organizzatori sono riusciti a ottenere una serie di garanzie. Si correrà il 7 maggio e il traguardo sarà il simbolo di Fano, l'arco di Augusto. Vediamo anche la pagina che dedica il resto del Carlino ad Urbino. Quattro dipinti salvati dal degrado del tempo. Ne vediamo qui due. Vediamo la Madonna Annunciata e l'Angelo Annunziante. Sono due dei capolavori che verranno appunto restaurati grazie... Sono i dipinti di Sebastiano Conca che verranno restaurati grazie al confartigianato. E intanto per il maltempo la neve si scioglie e le frane prendono il via. Il sindaco Gambini dice che molti fronti aperti risolveremo tutto. Lo scioglimento della neve ha lasciato a Urbino e dintorni delle amare sorprese. Sono quattro le frane principali che si sono verificate nei giorni scorsi nel territorio comunale. Abbiamo fatto il punto della situazione, ha detto il sindaco Gambini, che ha seguito in questi giorni le situazioni più critiche assieme all'ufficio tecnico. E ora bisogna intervenire per liberare le strade dai detriti. Una notizia che riguarda sempre l'assetto del territorio la troviamo riferita a Montegrimano Terme. Frane e breakout. Situazione complicatissima da domenica. In alcune zone l'elettricità è mancata. Fino a tre giorni grandi i problemi per quanto riguarda la viabilità. E' veramente il nostro territorio molto fragile nei confronti di queste perturbazioni di carattere atmosferico che incidono profondamente poi sulla stabilità dell'assetto territoriale. Sia per quanto riguarda le piene dei fiumi, dei torrenti, sia per quanto riguarda le frane che si verificano nelle zone collinari. Una notizia che riguarda Pesaro. Vediamo come anche il resto del Carlino si occupi del Teatro Rossini. Ma di questo abbiamo già parlato e quindi possiamo terminare qui la nostra rassegna stampa. Vi ringrazio per l'ascolto. Vi do appuntamento a domani alle ore 7. e per le notizie del giorno questa sera alle ore 20.30 con Occhio alla Notizia, il Tg di Fano TV. Grazie per l'ascolto. A risentirci.